Tu sei arrabbiato o sei contento? Arrabbiatissimo, perché una volta che abbiamo fatto il gol, che abbiamo provato tutti i 90 minuti a segnare e prendere un gol così al novantesimo fa arrabbiare tutti, però questo è il calcio, è meglio il pareggio che la sconfitta come meglio la vittoria che il pareggio, però guardiamo avanti e speriamo, riposiamo un po' e poi speriamo di far bene domenica. È arrivato questo pareggio, questa divisione della posta con la Cremonese e ne parlavamo anche con Zauri e anche con il tuo compagno di squadra Ciofani, avete rischiato al novantaduesimo di prendere anche il gol del 2-1? Sarebbe stata una beffa? Sì, abbiamo rischiato, meno male il nostro portiere Castrati ha fatto una grande parata e ci ha salvato, però noi, come ho detto prima, proviamo sempre a vincere, però nel calcio purtroppo si stanno le sconfitte, i pareggi e noi proviamo sempre a vincere. Noi ringraziamo Castanos, lo salutiamo. Sta meglio la mano, sì, a posto? Questo no. Quasi. Grazie. Grazie.